Prefetto, io sono Octi di Pura Fibra Teleana e in questo video sono con mia morosa dietro che guarda le serie tv Inoltre, scusate se vi sembra che qua abbia una caramella in bocca che mi si è gonfiato perché devo andare a operarmi il 29 per il dente del giudizio quindi penserò anche di fare i video prima però già mi sta gonfrando che mi fa male di tanto in tanto Comunque, andiamo subito al video di oggi Devo prementere delle cose a questo video Partiamo dal fatto che queste sono le mie opinioni personali quindi non venite sotto a scrivermi ma non è vero, ma non è vero sono le mie opinioni, sono vere cioè non è che possono essere non vere sono le mie opinioni, è quello che penso quindi è quello che penso poi alcuni di voi mi conoscono per come ogni volta mi lamenti del Battle Pass bene, consideratelo un video di quelli perché se c'è da lamentarsi sono il primo che ne ha un sacco da dire e soprattutto un'ultima cosa non venite a scrivermi eh, ma se non ti piace, bla 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 ma allora perché ci giochi? perché è comunque un bel gioco ed è il migliore della sua categoria perché io ho anche H1Z1 ma se gioco a questo è perché mi piace di più questo semplicemente lo sto paragonando a Fortnite quello che era una volta e quello che è adesso Fortnite fa schifo probabilmente è questo il titolo del video probabilmente è per questo che avete cliccato e in questo video scopriamo appunto perché mi sono scritto un paio di appunti personali in modo che lì, eh, che sappia ben cosa dire però, eh, è tutto, tutto mi sta venendo così di getto in modo da essere sincero su tutte le cose che dirò già tempo fa con un video ne avevo parlato un sacco ossia su Fortnite sta morendo era un video un po' drastico un po' tristino però era la verità c'erano delle cose che ci suggerivano che Fortnite stava un po' perdendo tanta di quella massa di gente che gioca al gioco e si diverte una vita perché? perché un sacco di nerf che venivano fatti alle costruzioni alle armi ai lama eccetera 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 ci facciano capire che la Epic Games vuole nerfare le costruzioni e questa cosa nonostante un sacco di player se ne siano lamentati la Epic Games ha detto oh chi se ne frega e ha continuato a farlo e infatti ultimamente hanno nerfato così tanto le costruzioni che ormai pushare non è un'opzione perché se provate a pushare gran parte delle volte basta che vi facciano cadere la costruzione che ormai non ci mettono nulla e voi cadete per terra lo stesso ma non è tanto questo che mi interessa perché tanto cioè ve lo ammetto io non sono uno che è bravissimo a costruire o che è mai stato chissà che bravo a buildare in maniera particolare lo ammetto tantissimo anzi io sono uno che si focalizza di più sulla mira in game più che tanto sul costruire non dico che sono incapace ma dico che il nerf delle costruzioni non mi tocca più di tanto chiaramente invece mi tocca il nerf dei materiali perché se io prima colpivo un albero e facevo 30 di legno adesso con lo stesso albero non è possibile che ne faccia 15 di legno perché vuol dire che io metà partita devo passarla a lutare il tutto quindi se una volta tu dici vabbè dai non lutto neanche tanto ucciderò qualcuno che avrà un sacco di materiali adesso sta roba non esiste più perché tu vai a uccidere uno e quasi mai quello ha materiali quasi mai e se ce li ha vuol dire che ha passato tutta la partita a lutare e tu l'hai ucciso dopo che lui per 3, 4, 5 minuti non ha fatto altro che picconare le cose e questo non va bene perché non è divertente stare a picconare le cose per tutta la partita non è divertente per niente è bello andare uccidersi spararsi lanciare granate quello è divertente invece spicconare le cose non è divertente e dopo 7 minuti tra l'altro che stai picconando avrai fatto sì e no 300 di legna quindi in ogni caso anche se passi là a 7 anni comunque non è che fai tantissimo parliamo adesso delle cose veramente cioè mettiamoci nei panni della Epic io mi immagino che questi qua ogni giorno vadano in ufficio e dicano chissà come possiamo rovinare ancora di più questo gioco e si mettono tutti insieme a pensare come si può rovinare questo gioco di più di prima perché prima era bellissimo e vi faccio degli esempi tanta gente ora si lamenta delle armi che escono che sono sempre più più ma è ovvio che le armi che escono sono sempre più più di quelle di prima è ovvio perché le armi di adesso fanno schifo cioè le armi di adesso che ci sono fanno proprio tutte schifo non c'è un'arma che dice boia qui stai sbroccata si la Thompson sicuramente tutti di voi diranno la Thompson è fortissima perché si perché è fortissima e la non è fatta tantissimo eppure rimane l'arma più forte perché semplicemente non perché lei è l'arma più forte perché tutte le altre fanno schifo perché una volta lo scaracca faceva 98 di danno in testa la R bianco una volta faceva 90 di danno in testa ora io vi faccio riflettere due secondi quando giocavamo a Fortnite tanto tempo fa qualcuno si era mai lamentato del fatto che la R facesse 90 di danno in testa no qualcuno si era mai lamentato del fatto che lo scaracca facesse 98 di danno in testa no perché perché era l'arma più rara del gioco era l'arma migliore del gioco quindi averla significava wow che figata però quelli dell'Happy Games hanno detto eh no ma allora è una questione di fortuna perché chi becca lo scaracca ha vinto a parte che non era niente vero perché se fa 98 di danno in headshot comunque ci vogliono tre colpi quindi per buttare giù un nemico e con la R bianco quanti colpi ci vogliono sempre tre considerando che uno ha 100 di vita quindi in ogni caso la differenza è relativamente poca rispetto a come adesso che lo scaracca fa 35 37 non mi ricordo e invece la R bianco fa 28 30 non mi ricordo ma è ininfluente perché sicuramente sono entrambi stati nerfati ma questi sono nerf da niente cioè voglio dire dai ma vogliamo parlare del lanciarazzi qualcuno si era mai lamentato del lanciarazzi super fighissimo quando Fortnite era appena appena arrivato nelle nostre console no non ho mai sentito qualcuno dire eh lanciarazzi fortissimo sì era fortissimo ma era una cosa pacifica perché io ce l'avevo e ammazzavo te tu ce l'avevi e ammazzavi me fine no adesso limitiamo il numero di munizioni aumentiamo il rinculo in modo che sia strano che quando spari adesso tipo te lo porta a destra a sinistra che vabbè è anche giusto ok quello è anche giusto però vogliamo parlare cioè tanta gente adesso dice che le costruzioni sono fanno schifo e gli esplosivi sono fortissimi ma è ovvio che gli esplosivi sono fortissimi se tutte le costruzioni hanno zero di vita praticamente che piazzi un muro e basta una una granata sparata sette metri più in là per farlo esplodere perché ormai non hanno vita i muri cioè non hanno proprio vita per niente basta un niente per forza gli esplosivi sono fortissimi certo il potenziamento della c4 è uno dei pochi potenziamenti che ha fatto diventare una cosa schifosa una cosa fighissima però peccato che il potenziamento della c4 è forse l'unico potenziamento che questo gioco ha visto in sé perché alla fine pensateci un po' le pistoline silenziate erano fortissime una volta erano precise precise perché il silenziatore aumenta la precisione nerfate tantissimo perché adesso se provate a usare una pistolina silenziata è ingiocabile una volta Ninja ci ha fatto il record da solo a squadre 30 uccisioni tipo adesso sono ingiocabili le pistoline silenziate vogliamo parlare di del lanciagranate che ormai con 12 colpi cosa te ne fai che tanto già sono non li trovi mai i colpi del lanciarazzi poi quando li trovi ne hai 12 cioè vabbè ok 18 con quelli 6 nel caricatore cioè in canna vabbè in ogni caso sono comunque 13-18 colpi ma non li avrai mai full perché saranno sempre pochissimi i colpi di lanciarazzi per non parlare del lanciarazzi guidato ma che schifo è una volta ero OP ok però adesso è veramente una schifezza sì certo nerfarlo ma comunque nerfiamo tutte le armi la Desert Eagle che una volta si faceva la double Desert Eagle perché comunque era un'arma decente no adesso fa schifo perché non è possibile che se io sparo a un nemico dalla distanza con la Desert Eagle faccio 30 di danno a sto punto tiro fuori la R faccio 22 di danno però sparo mille volte di più e quindi ho più probabilità di beccarlo piuttosto che sparare una volta sola con la Deagle e poi il nemico intanto si è costruito una torretta alta quindi perché cioè quello che io non capisco della Epic Games è perché bisogna nerfare tutte le armi perché bisogna nerfarele tutte una volta erano tutte OP tutte fortissime ma erano bellissime invece no noi nerfiamo tutto nerfiamo le costruzioni nerfiamo i materiali nerfiamo questo nerfiamo quello cioè l'unica cosa che sanno fare è nerfare potenziamo un po' tutte le altre armi perché una volta il Bolt Action sparavi da lontanissimo e con un colpo ti uccideva adesso il Bolt Action fa schifo perché se ce l'hai azzurro fa schifo cioè nel senso becchie uno gli fai 80 di danno ma che schifo è è un cecchino ne aspetto che faccia one shot one kill ok magari non one shot one kill magari top 110 115 ma che faccia questi 110 115 danni no che faccia poi 60 danni 70 danni 80 danni quello me lo spetterei dal fucile a caccia che hai fatto apposta per fare un po' meno danni e quindi fa meno danni e invece no è un po' tutto a caso una volta il Bolt Action era fortissimo era un'arma necessaria da avere nell'inventario adesso la gente lo evita perché tanto non sto dicendo che il cecchino Bolt Action faccia così schifo da lasciarlo sempre per terra sto dicendo che rispetto a prima era che era un'arma obbligatoria da avere adesso anche se non ce l'hai la partita la vince lo stesso poi un'altra cosa vogliamo parlare del cecchino semiautomatico quello chi se ne frega proprio o la Revolver ma sono armi che non si sa ancora perché ci siano in gioco la Revolver la Revolver e la Deagle sono la stessa identica arma non vedo nessuna differenza se non nei colpi che fanno anzi da vicino prefererei la Revolver che la Deagle vi dirò e qualcuno di voi mi dirà sì però una volta c'erano poche armi adesso ce ne sono un sacco sì ce ne saranno anche un sacco ma tanto tutti usano sempre le stesse perché non mi dite che non è vero che usate il Thompson usate solo quello la mitraglietta quella non silenziata ma anche quella silenziata perché sono forti entrambe poi di tanto in tanto c'è qualche impavido che usa un fucile a pompa raro ma si usa gli hanno nerfati una vita ma si usano lo stesso perché una volta il tattico era obbligatorio quello del pompa del nonno non se lo cagava nessuno poi l'hanno nerfato quello tattico allora si è iniziato a usare il double pump hanno nerfato il double pump una delle cose giuste che hanno fatto dopodiché semplicemente hanno fatto dei pompa che quello nuovo mi fa proprio schifo cioè fa schifo o bechi in testo fa schifo quindi l'unico pompa figo è quello nuovo ossia il pompa pesante che io chiamerò sempre nuovo perché per me quello è il pompa nuovo quello è l'unico preciso diciamo ma anche se hai una varietà di armi un sacco che ne hai un sacco di granate di armi di robe alla fine la gente usarà sempre le solite armi continuando con l'inventario tattico due slot di cure thompson di tanto in tanto chi usa la R chi usa il cecchino insomma serve a qualcos'altro e esplosivi fine non ci sarà mai un inventario diverso non ditemi che voi girate con la revolver che se trovate una revolver e avete tipo degli scudini lasciate giù gli scudini per prendervi la revolver cioè ma per favore dai ma chi usa certe armi o o il mitraglione pesante o la Gatling che è anche forte la Minigun devo dire come arma però purtroppo da quando sono in giro le mitragliette la gente consuma di più le munizioni piccole quindi la Minigun diventa anche meno utile una cosa la Epic Games ha fatto di buono oltre al potenziamento della C4 di tempo fa però chiaramente poi l'hanno rinerfata facendone trovare solo tre al posto di quattro ma vabbè una cosa hanno fatto di positivo ossia la safe che cambia a caso e tanta gente dirà eh sì perché non era giusto che una volta chi era fortunato ad andare in safe e stare lì e avere una montagna cioè avere il fortino lì era avvantaggiato beh adesso è la stessa cosa bene o male cambia relativamente poco perché comunque se io sono in safe qua e il mio nemico è qua e la safe però è tipo da questo lato qua io che sono comunque qua in ogni caso sarò più avvantaggiato ad andare di qua piuttosto che il mio nemico che dovrà farsi tutta questa strada in ogni caso c'è una forma di fortuna una forma di vantaggio però è mille volte meglio di prima perché almeno adesso bisogna muoversi bisogna costruire bisogna essere un po' agili nascondersi saltare eccetera molto più di prima dove uno che si era costruito il fortino nel punto giusto nel punto fortunato aveva vinto questi sono i motivi per cui secondo me battle royale ormai non è più il battle royale di un tempo e proprio per questo mi piace di meno ultimamente gioco un sacco di più a salva il mondo solo per questo e non provate a dirmi che non è vero questo perché hanno aggiunto tante cosvelle hanno aggiunto tante armi tante robe ma se fanno tutte schifo tutto il resto che poi vabbè quando nerfano le cose le epigame sono strani perché se io ho questo telefono e questo telefono è troppo p su fortnite allora nerfiamolo nerfiamolo un sacco riduciamogli il danno riduciamogli la cadenza riduciamogli la portata riduciamogli tutto però allora poi se lo nerfi così tanto perché poi riduci anche la quantità di questo telefono che si trova per la mappa perché per esempio hanno nerfato tantissimo la thompson e hanno fatto sì che si può trovare il 40% delle volte in meno di prima ma scusa ma se l'avete nerfata è un'arma come tutte le altre perché bisogna trovarne il 40% in meno questa roba non l'ho mai capita vabbè in ogni caso o nerfiamo le cose bene però a questo punto comunque mi sembra che le cose nerfate non siano perché tanto tutti usano le stesse identiche cose sempre e finché ci sarà questo sia il problema di tutti che usano le stesse identiche armi allora non sarà un ecosistema giusto e allora è inutile che ci sono mille mila armi in giro se tanto poi le uniche armi utili sono quelle perché avere tante armi in giro è una cosa che va a nostro svantaggio perché poi tutto si riduce a guarda una chest a guarda un nemico che mi insegue con un R chissà cosa troverò nella chest qualcosa che mi aiuterà a no il lanciarazzi guidato che schifo ho perso vabbè non dico che battle royale faccia schifissimissimissimo mi piace però devo ammetterlo non mi piace più come un tempo e per questo ci gioco con molto meno di un tempo e tanti mi hanno chiesto perché questa cosa che portavo spesso ormai salva il mondo o portavo meno battle royale ecco a voi spiegato il perché e voglio proprio sentire la vostra opinione se non siete d'accordo con me voglio proprio sentire che cosa avete da dire se non siete d'accordo con me perché penso di aver detto la verità in tutto che sono miei personali però alla fine penso di aver detto la verità comunque in generale su tutte queste cose vedete in voi cosa ne pensate aspetto le vostre risposte nei commenti e il commento ignorante di questo video è Fortnite era meglio prima e voi dovete completare con una frase che faccia rima e magari che faccia un po' ridere anche oggi ringraziamo la pura fiore della nostra non qua grazie mille che vi siete iscritti siamo già in 164.000 che ci siamo sempre di più commentate con quello che ne pensate voi su questo argomento che è un vasto argomento quindi non fate commenti inutili tipo ma perché ci giochi se tanto non ti piace bla 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 o cose del genere lasciate un piaccio se vi è piaciuto il video condividetelo con i vostri amici e compagni team così anche loro potranno esprimere la propria opinione sotto questo video e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao